Allora, il tasto di spezzare notturno in alto a destra ci permette di entrare nella stanza degli animali quando ovviamente è buio nella stanza e praticamente effettua un'alba veloce, nel giro di 20 secondi accenderà i neon e noi entriamo nella stanza senza ricreare uno sbalzo di luce immediato sistemiamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare all'interno della stanza nell'uscire ci ricorderemo di ripremere il tasto e lui effettuerà di nuovo un tramonto veloce sempre in 20 secondi e spegnere tutto se comunque dovessimo dimenticarci di spegnere il tasto di spezzare notturno o comunque dopo 30 minuti lui effettuerà il tramonto e spegnerà tutte le luci in automatico questo per evitare di lasciare le luci accese durante la notte quindi il mio consiglio è questo evitate di utilizzare luci esterne al Pro 2000 Plus diciamo, luci di servizio in quanto se dovessimo dimenticare le accese potremmo compromettere i nostri animali all'interno della stanza grazie